Non ho bisogno che tu capisca, solo che ti ha detto. Andiamoci da fare. Cattura e difendi i bersagni marchiati. A ha catturato il nemico, ha catturato C. Ah, è stato amplificato, buon lavoro. Il nemico ha catturato B. Il nemico ha catturato. Cattura DP. Il nemico ha catturato C. D, catturato. Il tuo Titan sarà presto online, pilota. Il nemico ha catturato C. Prepararsi a Titanfall. Sono contento di rivederti, pilota. Insieme siamo più fatti. Il nemico ha catturato B. Il nemico ha amplificato C. Catturato. Stiamo perdendo mercenario, anche se di poco. Ah, è stato amplificato. Buon lavoro. Il nemico ha catturato B. Attenzione, pilota nemico all'attacco. Pilota, siamo in minoranza, 2 a 1. Attenzione, pari pilota. Ha catturato. Attenzione, Titanfall nemico individuato. Nucleo fiamma pronto. Tali critici, cercare riparo. Sì, catturato. Ha è stato amplificato. Buon lavoro. Il nemico ha amplificato C. Catturato. Alta nemico a terra. Dominio. Nucleo fiamma pronto. Alta nemico a terra. Il nemico ha catturato B. Sessione, pari piloti di luci all'attacco. Quel pilota non sarà molto felice. C. Catturato. La calcettura di B. Pilota Osteen è rilevato. Lancia termite sul bersaglio. Abbiamo il pieno controllo. Stai dominando. Stiamo perdendo di poco, mercenario. Consiglio di rivedere la tua tattica. Il nemico ha catturato B. 2 uccisioni. Ben fatto. Cattura di B. Di catturato. Dominio. Stiamo perdendo, mercenario. Anche se di poco. I è stato amplificato. Molto bene. Prepararsi a Titanfall. Nota a bordo. Ripristino dei comandi manuali. Il nemico ha catturato A. Il nemico controlla tutto. ha catturato. Cattura di B. Attivazione modalità difesa. Rilevamento nemico. Sì, catturato. Pinto di poco, mercenario, ma apprezzo il tuo impegno e il contributo alla mia ricerca. Grazie a tutti. Sì. Grazie per la visione! Grazie per la visione!